buongiorno a tutti e tutti io sono eglio balbo sono in rappresentanza del coordinamento regionale piemontese delle lavoratrici e dei lavoratori dello spettacolo oggi 5 dicembre siamo in piazza siamo in piazza come lavoratori lavoratrici perché siamo in una situazione che sta raggiungendo il parossismo nel senso che a livello nazionale siamo 570 mila operatori e solo in regione piemonte più di più di 12.000 12.000 persone 12.000 lavoratori 12.000 nuclei familiari di fatto senza reddito a fine febbraio 2020 e che hanno avuto delle grosse grossissime difficoltà anche ad accedere ai bonus che sono stati messi in campo con i vari decreti noi di fatto siamo in piazza perché siamo stufi della situazione che viene affrontata tentando di risolverla con bonus indennità eccetera noi abbiamo bisogno di tutele e diritti perché siamo lavoratori lavoratrici come tutte le altre il nostro comparto è un comparto che a livello di normativa del mondo del lavoro è debolissimo senza tutele la pandemia ha scoperto un nervo che era già scoperto nel senso che noi viviamo queste centinaia di migliaia di lavoratori vivono e lavorano già senza tutele e di fatto senza diritti la pandemia ha portato al parossismo questa situazione che adesso soprattutto in regione piemonte sta diventando qualcosa di realmente insostenibile